Pronto? Sì? Sono Bazzaglia, potete mandare per cortesia al tritato a casa? O non fate domicilio? Sì, lo facciamo Eh, se me lo potete mandare per gentile Sì E dov'è? Piazza Nardelli Piazza Nardelli? Sì 40, Bazzaglia Bazzaglia? Bazzaglia 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 Cora causassero La sc遣na Bazzaglia Mocca in me che le mucca da fossero Non ci cuoriti Non ci cuoriti Ma ci cuoriti Mi cuoriti Ti cuoriti E mi cuoriti Ci cuoriti E noi ci cuoriti E non ci cuoriti Ma te Tu sei un crinucidato fino a Gerusalemme. Sì, fino a Gerusalemme. Ma Gerusalemme? Sì, dove è Gerusalemme? È Gerusalemme. Ma tu mamma da te? Mocca la bacchina di sorda che dà la culata per me. Ma io gli ti prese proprio che la noce quando si figlia da papitto. Ma a me ce la vuoi decinti e si stanno a diventare la morte da tanto. Grazie a tutti.